bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tante novità per quanto riguarda le news delle ultime 24 ore di fortnite racchiuse in questi pochi minuti già ieri abbiamo visto un sacco di roba che sta per arrivare il nuovo bundle le nuove regole i nuovi tornei ma anche oggi non siamo da meno tutti sappiamo che è apparso un portale in game e ne approfondiremo proprio in questo video parleremo anche però della nuova coppa che è stata annunciata ufficialmente di altre nuove skin e di un sacco di elementi che ci fanno capire un pochettino che piega prenderà questa season numero 5 prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che si tratta di una notizia per quanto riguarda le nuove patch i nuovi aggiornamenti la patch 15.21 e 15.30 sono già state aggiunte ai dev server e stanno procedendo con i test la cosa è veramente molto importante perché vuol dire che non ci saranno dei ritardi appunto sullo sviluppo degli aggiornamenti di fortnite e quindi il tempo in cui finirà questa season che dovrebbe essere indicativamente marzo del 2021 per adesso non è a rischio quindi si chiuderà perfettamente come vedete ragazzi queste sono le immagini di entrambe le patch nei vari dev server tanta tanta roba epic game sta lavorando veramente alla grande e sono molto fiducioso che siano super interessanti andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva direttamente un messaggio sulla pagina twitter di fortnite status dove dice che il pack di gennaio per tutti quelli che hanno preso il fortnite crew è stato accidentalmente rilasciato ad un gruppo stretto di utenti che quindi hanno potuto acquistarlo così e meglio acquistarlo che hanno potuto riceverlo in poche parole e quindi usufruirne in anteprima non gli verrà rimosso lo specificano direttamente quelli di fortnite e ci riallacciamo quindi a un discorso di ieri perché eccolo qui ragazzi il january fortnite crew pack green arrow ragazzi che ovviamente non è di marvel ma è di dc quindi tutti quelli che ieri mi hanno bacchettato perché mi sono sbagliato ora dovrebbero essere contenti green arrow con skin backpack e piccone appunto farà parte del nuovo pack della fortnite crew tanta tanta roba andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono degli altri in degli altri giornamenti sempre da parte di fortnite status che dice noi ci rendiamo conto che ci siamo dimenticati di mettere l'opzione per disabilitare i preedit nella patch 15.10 sappiamo che molti di voi cercano e pensano che i preediting non è necessario ma ci tenevamo ovviamente ad avere e a darvi questa opzione ne avevamo parlato infatti con l'uscita della patch ma si vede che si sono appunto dimenticati non vi preoccupate anche se però dovremmo aspettare il 2021 perché la prossima patch la 15.21 non potrà essere rilasciata prima di metà gennaio secondo me dobbiamo aspettare almeno il tra il 10 e il 15 gennaio adesso c'è tutto il periodo di riposo da parte della crew di fortnite non quella da parte del team di fortnite che va appunto in vacanza per le vacanze invernali e quindi non ci saranno aggiornamenti fino a quella data e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché invece arriva degli aggiornamenti per quanto riguarda fortnite su ios oramai ragazzi sapete che sono tanti mesi che non è più possibile giocare a fortnite sui dispositivi ios per via del problema che ricorderete tutti la causa legale tra fortnite ed apple per quanto riguarda il fatto che fortnite abbia deciso di non pagare le microtransazioni che vengono fatte sul proprio gioco ad apple nonostante si appoggi all'apple store ma in realtà arriva questa notizia da parte di geforce che dice geforce now sta annunciando che ci sarà un evento il 2 gennaio potrebbe esserci una buona chance che fortnite mobile sui os sarà annunciato nuovamente ovviamente non c'è nulla di ufficiale per l'annuncio per la data di di annuncio di geforce è ufficiale ma non è detto che annuncino il ritorno di fortnite sui os stiamo attenti ovviamente il 12 gennaio scusate mi ho detto il 2 ma è il 12 vi terrò aggiornati ovviamente perché so che tanti di voi non possono giocare a fortnite perché l'unico modo che avevano di avvicinarsi al nostro battle real preferito era ios quindi sulle dita speriamo ragazzi e speriamo che torni davvero sui dispositivi mobile e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi che sta per arrivare anche la skin di predator su fortnite abbiamo visto tanti piccoli easter egg che hanno praticamente preannunciato l'arrivo di questa skin gli easter egg erano presenti sono presenti tuttora nel nella giungla quella in alto nella mappa recintata dove ci sono appunto dei richiami molto evidenti al film predator ovviamente la skin non abbiamo non abbiamo la skin ufficiale ma questo è un concept che però potrebbe tranquillamente riprenderla e non vedo l'ora di vedere questa nuova collaborazione anche se prima dovrebbero essere uscite oggi le skin di walking dead quindi i due cacciatori che direttamente johnsy è andato a recuperare con tanto di mini trailer che avevo fatto vedere ma insieme a loro appunto anche la skin del predator dovrebbe arrivare e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché nuova coppa come avevo anticipato la generation cup lo dice direttamente fortnite nella propria pagina twitter e lo dice anche nella pagina normale il loro sito internet coppa generazione di fortnite solo ps4 e ps5 fortnite ha stretto un accordo con playstation per darvi la possibilità di vincere una console ps5 il costume cuno indaco e o indaco e il corso decorativo e il dorso decorativo cama indaco il 18 dicembre buttatevi nella mischia contro gli altri giocatori su ps4 e ps5 nella coppa generazione di fortnite per un'opportunità di vittoria c'è una sola console ps5 in palio per ciascuna regione quindi date il massimo da noi in europa ragazzi sarà dalle 18 alle 21 quindi se siete in grado di spaccare tutto su fortnite la coppa generazione vi potrebbe dare la chance di vincere una playstation 5 una cosa davvero super gradita e come sempre non dimentichiamoci di ringraziare epigames per tutte queste opportunità che ci dà insomma ragazzi io anche per oggi le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao